...di tuoi figli, oggi quel zitti tutti che voleva dire, noi che abbiamo interpretato, almeno io, che i zitti tutti sono diventati uno al mondo del tuo. No, a me non mi interessa essere... No, però il tuo gesto... Ma ogni tanto, non lo so, io ho vinto tanto però, quando vinco, non lo so, soprattutto quando... Non lo so se è un vostro difetto, lasciatemi fare una critica però, trovate magari tante volte una scusante per chi ha perso e con tutto il rispetto di Mark, penso di aver fatto una grande volata ieri, ho parlato con lui anche stamattina, non c'è assolutamente nessun tipo di rivalità diversa da quella che può essere in bicicletta.